Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, quest'oggi abbiamo il piacere di riavere con noi il professor Davide Lovat che ci aggiornerà sulle tre proposte di legge e di iniziativa popolare, il diritto alla libertà di pagare in contanti, il diritto all'autoproduzione del cibo e il diritto di rifiutare l'indottrinamento gender nelle scuole. Bentornato professore. Grazie, grazie al canale dentro la notizia con il quale voglio condividere questo che è a mio giudizio un successo straordinario e una parte importante l'avete avuta anche voi perché senza la vostra spinta non avremmo potuto raggiungere con l'informazione alternativa tutti quelli che abbiamo raggiunto. Io ho vissuto momenti commoventi ricevendo le buste da tutti i comuni d'Italia e vedere dei posti più remoti che nemmeno avevo mai conosciuto, magari una, due firme, tre, ma arrivavano da tutte le regioni. Questo senza del canale dentro la notizia, noi da soli di Liberi Inveritate non avremmo potuto farlo perché noi siamo presenti in 12 regioni, non in tutte e 21, visto che Trento e Bozzano su due cose distinte, non avremmo potuto raggiungere tutto. Bene, quindi ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e soprattutto ai nostri amici che ci seguono da casa. Perché professore possiamo dire che comunque Vada è stato un successo? Intanto è stato un successo perché l'obiettivo previsto dalla legge di 50.000 firme lo abbiamo superato, di poco, ma lo abbiamo superato. Abbiamo 52.700 firme per il diritto al contante, 51.500 dato aggiornato a ieri mattina, perché ancora sta arrivando roba, sul diritto all'autonomia nella produzione del cibo e 50.070, quindi appena sopra, anche sul gender che finalmente, grazie a queste iniziative, ecco uno dei motivi per cui è un successo, grazie a queste iniziative e grazie poi a quello che tutti hanno visto alle Olimpiadi di Parigi, finalmente si è capito un po' che cosa è, che cosa sia, che non è la rivendicazione dei diritti di alcune categorie di persone, ma è uno spravolgimento dell'antropologia finalizzato a slegare la riproduzione del matrimonio per farla diventare un diritto individuale e superando i concetti di maschio e femmina e di matrimonio. L'ideologia gender mira a questo, cioè a rendere merce perfino la riproduzione e noi per questo un anno fa siamo partiti quasi facendoci deridere perché la gente diceva di cosa parlano, no? E invece adesso pian piano la gente sta capendo quale violenza sia nei confronti delle donne, soprattutto questa ideologia, e quale minaccia sia per l'umano in generale. E poi se noi torniamo indietro di un anno, sì qualcuno parlava della minaccia al contante, ma quello che abbiamo ottenuto con questa campagna è stato di far diventare di dominio comune la conoscenza di questo argomento, che intanto purtroppo sta andando avanti nelle istituzioni. E poi sull'autoproduzione del cibo addirittura eravamo apertamente derigi. Poi c'è stata la campagna degli agricoltori rientrata, vabbè, non entriamo nello specifico, ma è solo sospesa perché i problemi sono gravissime, sono tutti sul terreno, ma soprattutto oggi tutti, grazie a quello che abbiamo fatto anche noi, assieme a voi dentro la notizia, tutti sanno che l'autonomia alimentare è minacciata da chi vuole il monopolio sulla produzione del cibo. Per cui i veri obiettivi nostri, che erano quelli di rendere di pubblico dominio e di piena consapevolezza queste tre tematiche, che sono comunque parte dell'Agenda 2030, insieme ad altre che vogliamo poi combattere e far emergere, far discutere e far comprendere, insomma queste tre tematiche sono diventate di dominio pubblico. Per cui, al di là del fatto di aver ottenuto quello che ci permette di andare avanti dal punto di vista istituzionale, noi siamo contenti, uno, che il nome di Liberi Inveritate, che è un'alleanza antiglobalista, è arrivato un po' dappertutto in Italia, due, che queste tematiche oggi sono conosciute e date quasi per acquisite, mentre un anno fa non era assolutamente così, e poi tre, il fatto che grazie a dentro la notizia, e lo dico apertamente, abbiamo trovato un canale affidabile di informazione. Io anzi approfitto, non richiesto, ma ne approfitto, siccome chi combatte dalla parte sbagliata del potere, dalla parte della giustizia, deve sopportare costi, denunce, minacce, eccetera, io invito chiunque se la senta anche con un minimo contributo, 2 euro, 5 euro, quello che vi sentite, a contribuire al canale dentro la notizia, perché il lavoro fatto è stato per me straordinario. Avere avuto 150 mila contatti sui video che abbiamo fatto periodicamente è qualcosa che comunemente è assai difficile. La ringrazio, professore. Però ora vediamo quali sono i passi successivi. Allora, adesso si deve passare al difficile, se stiamo sulle iniziative di legge. Cioè, visto che abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, è doveroso per rispetto a tutti quelli che sono andati in comune a firmare, portare avanti la questione fin dove sarà possibile. L'abbiamo sempre detto, la parte difficile è adesso, perché le iniziative di legge partono con una raccolta firme, ma poi devono essere votate in Parlamento. Allora, la prima cosa, alla fine della settimana prossima, io con altri due del comitato ci recheremo presso la Camera a consegnare i pacchi. Non è che le consegniamo e basta. Ovviamente bisogna trovare una forza politica o un parlamentare o due o tre parlamentari che si intestino l'iniziativa come è doveroso per Costituzione, peraltro, e che poi però la portino avanti in maniera seria. E allora ecco che, non potendo adesso fare nomi, però io ho già preso dei contatti, faccio politica attivamente così, da 25 anni e ho le mie conoscenze di persone credibili, che sono state credibili anche nel periodo pandemico, tra i pochi che sono stati credibili anche durante, non dico nomi, però qualche indizio lo do, perché per me è una discrimine fondamentale e ho già trovato modo di intavolare un discorso. La settimana prossima ho due appuntamenti, uno nella mia regione il Veneto, ovvio ho conoscenze qui, un altro in una regione vicina, così non ho indizi particolari, e ci sono i presupposti per poter andare avanti. Poi dopo, è chiaro, voi sapete che queste tematiche sono osteggiate in maniera totale dalle forze globaliste, partiti come il Partito Democratico più Europa che applicano nella loro proposta politica l'agenda globalista, sono disposti a fare le trincee, a buttarci per terra, a dar fuoco alle carte, a fare qualsiasi cosa. Per cui non illudiamoci, ma voglio ricordare quella polemica che nacque all'inizio di chi diceva ma perché facciamo queste cose. I risultati ottenuti sono già straordinari e va fatto, va fatta fino in fondo la battaglia e c'è bisogno di voi tutti, di voi tutti, perché stare a girarsi i pollici a casa e criticare quello che fanno gli altri di sicuro non risolve niente. Invece contribuire anche solo col passaparola, oppure come straordinariamente avete fatto in tanti che siete andati in comune a firmare magari sottraendo un'ora al lavoro, questo invece serve perché senza il numero le élite, e sono pochi, non governano. Se movimenti di massa si manifestano, si esprimono, fanno vedere che sono dissenzienti rispetto all'agenda globalista, noi otteniamo i risultati, magari un po' alla volta, perché hanno costruito un castello in decenni e noi dobbiamo montarlo mattone per mattone, ma bisogna pur far qualcosa. E in questo mi colleggo a quello che probabilmente diremo anche dopo, e anche i sondaggi che sta proponendo dentro la notizia sono di straordinaria importanza. Partecipiamo, cito Gaber, io sono abbastanza trasversale, non ho mica problemi, libertà e partecipazione. Se noi non partecipiamo è inutile che ci si lamenti, se poi ci tolgono la libertà. Professore, sono pienamente d'accordo, la ringrazio ancora. Certo, lottare al di là del risultato contribuisce a formare la cosiddetta forma mentis, che poi ci permetterà di vincere la battaglia finale. Quindi avere questa attitudine mentale della lotta e dell'obiezione alle strategie globaliste è fondamentale per sopravvivere in questo sistema che si fa sempre più violento nei confronti di chi sceglie di vivere liberamente. I sondaggi sono stati fatti sull'obbligo vaccinale, sulla censura operata dai social media e sul conflitto in Ucraina che abbiamo pubblicato appunto stamattina, ieri per chi ci guarderà in questa intervista. Perché ritiene utile partecipare a questi sondaggi, professore? Guardi, abbiamo visto la risposta e allora vuol dire che c'è la gente che vuole opporsi, che dice no a queste imposizioni. E allora è fondamentale per una serie di motivi. Uno, noi vogliamo prendere di mira la legge Lorenzini. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Potete permetterci di continuare il nostro lavoro con una donazione singola o mensile. Chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale, può contattarci tramite le mail in sovraimpressione. Per essere avvisati dell'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Robi.